3 point game della prima partita di play-in, la Virtus vince 64-67 in casa dell'Efes e batte così una squadra che aveva i favori del pronostico come i turchi, si aggiudica la possibilità di andare a giocarsi l'ingresso ai play-off come ottava testa di serie venerdì contro i Basconia, che ha perso malamente in casa del Maccabi. Il primo punto a chi lo dedichiamo? Lo dedichiamo alla difesa enorme della Virtus perché è stata la chiave e il motivo per cui la Virtus è ancora qui. Quindi veramente tutti i giocatori hanno dato un contributo importantissimo, cioè veramente Polonara e Abbas per nominare i due più appariscenti, Polonara ha fatto due, tre stoppate veramente nel secondo quarto, chiudeva tutti gli spazi, ma in generale la squadra si è mossa bene, l'Efes è una squadra grossa, alta, hanno lunghi, alti più di due metri dieci, due metri quindici come Plays, come Oturo, lunghi fisici. La Virtus ha raddoppiato bene con i tempi giusti, è riuscita a chiudere gli spazi e a forzare l'Efes a molte palle perse. A un certo punto aveva fatto tre, quattro stoppate veramente in poco tempo all'inizio della partita. Ha messo un'intensità difensiva impressionante che le ha permesso alla lunga di vincere la partita, perché l'Efes ha un talento negli esterni clamoroso, perché Claiborne ha iniziato con 5 su 53 punti e sembrava che dovesse segnarne 40, però dopo un po', poi dopo il 5 su 5 ha chiuso a 6 su 12, quindi ha fatto 1 su 7. L'Arkin si è acceso tra seconda e terzo quarto, ma non è bastato perché la Virtus è stata più continua, quella continuità che non aveva avuto in tutta la stagione, ha ritrovato la difesa che era mancata spesso nelle ultimi mesi e che nella partita più importante della stagione ha ritrovato queste due chiavi e alla lunga ha battuto l'Efes che ha fatto solo 64 punti in casa. Il secondo punto lo dedichiamo ai Ferrundeg, perché alla fine è stato lui, l'uomo che ha messo la triple più 6 perché ha chiuso definitivamente i giochi. È vero che Bryant dopo ha risposto con un altro canestro da 3 punti su una gamba sola, però comunque la sua tripla ha scavato il solo con il più 6 che appunto ha permesso alla Virtus di essere tranquilla per gli ultimi 10 secondi di gara, quindi ancora una volta Ife Lumber segna un tiro libero decisivo e si dimostra importante in questo finale di stagione dopo magari alcuni match un po' sottotono. Il terzo punto lo dedichiamo, come al solito, al futuro, perché la Virtus ha vinto il primo dei match winner-golm, però non bisogna pensare che sia finita qui, che sia già tutto facile, perché c'è stata una prestazione difensiva veramente clamorosa. È vero, ci sono viste, se vogliono trovare il periodo nuovo, più difficoltà in attacco, perché comunque ha fatto 16 palle perse, poteva migliorare qua. Contro il Bascogna però dovrà far uguale, perché il Bascogna poco tempo fa è arrivato a Bologna e ha segnato 95 punti. Se riuscirà a ripetere questa prestazione avrà buone chance venerdì di andare al playoff, altrimenti, se non riuscirà a ripetere questa enorme partita difensiva e proverrà a giocare ad alto ritmo, come è fatto bene nel discorso, c'è di ciò che il Bascogna vinca di nuovo, come appunto è già successo. Ci vediamo al prossimo 3-point game.